Scusate amico, per andare a Reggio Calabria, da dove non ci devo uscire l'autostrada? Puoi uscire o da Santa Caterina, o da San Brunello, o da Spirito Santo. O i tutti i santi, ma che mi stai roccolando? Puoi uscire anche da Porta Nova. Ma quale Porta Nova è Porta Vecchia? Io non ho portato a Nuru. E quando ne vendono questi reggetani? Scusate amico, per andare a Reggio Calabria, da dove non ci devo uscire l'autostrada? E' facile, la prima saniscia, la seconda, la terza, e poi sempre dritto. E quando ne vendono questi reggetani? Ma scusate, caglite una sigaretta. Se puoi trovare una sigaretta andiamo a fumare in due. Dove la palla? Scusate amico, per andare a Reggio Calabria, da Messina, ora. E se cattò sull'occhiale, tira avanti. Gira la palla, gira la palla, gira la palla e fa la gira. Gira la palla, gira la palla, gira la palla e fa la gira. Spazio giallorosso. Spazio giallorosso. Il pre-partita dell'ACR Messina. Giro la palla, fa la gira. Giro la palla, giro la palla, giro la palla e fa la gira. Giro la palla, giro la palla, giro la palla e fa la gira. Giro la palla. Spazio giallorosso. Giro la palla. Il pre-partita dell'ACR Messina. Fa la gira. Spazio giallorosso. La mia squadra, la mia città, Messina. la mia squadra la mia città messina